Ehm, raga, alcune cose andrò un po' veloce perché, cioè, vi faccio vedere quanto è lungo Ecco, avete capito, alcune cose magari andrò un po' più veloce, però Grande sandbox, in poche parole Quello che andranno a toccare sarà, in particolare, gli obiettivi del team I falcioni verranno un po' potenziati in vari aspetti Si parlerà di flinch, statistiche di flinch e di gameplay in aria Del movement in aria, di come le armi, il feeling delle armi in aria Ridimensionare, invece, tutte le one-hit kill in crogiolo Tutte quelle combo che ti permettono di one-shotare in crogiolo In particolare si parlerà poi di rework a munizioni speciali A varie armi esotiche, vari architipi leggendari e alcuni perk delle armi Parlano dei falcioni, i falcioni adesso attiveranno corpo a corpo dei falcioni Verrà visto non con lo stesso danno di un corpo a corpo, ma attiverà perk relativi a corpo a corpo Invece non attiverà alcune abilità relative a corpo a corpo, come colpo combinato Che è quello ad arco del cacciatore O come assassin call, che è l'elmo dell'assassino del cacciatore Uccidere corpo a corpo il falcioni non attiverà invece questi qui Beneficerà dei buff, dei danni, l'aumento dei buff, dei danni a corpo a corpo in generale Quale ad esempio carezza di dann larvale staccherà col falcione E anche winter's guile è astuzia d'inverno mi pare Vabbè le braccia quelle dello stregone Fanfarone viene, se tu uccidi col falcione attivi il per 5 di fanfarone Ma non ti dà il per 5 di danno sul corpo a corpo, te lo dà sul colpo caricato Quindi uccidere col falcione corpo a corpo ti aumenta, ti dà il per 5 di stacca di fanfarone Che però il buff c'è solamente sul proiettile sparato Diminuito il numero di proiettili per aggiungere energia massima del falcione Da 6 a 4, basteranno 4 proiettili tati per avere energia massima della barricata Barricata, la protezione dei danni che guarderemo più avanti, come dice qua È aumentata la resistenza in pve, fino al 97.5% di resistenza ai danni in pve E la barricata, lo scudino che ti crei col falcione invece 75% in pvp Il pvp tra virgolette è più bilanciata perché comunque la barricata la carichi facendo delle hit Avendoci solo due colpi non è facile avere diciamo la barricata attiva, quindi ci sta Attacchi mili del falcione potranno essere interrotti da una schifata del cacciatore Profanatombe, grid robber, adesso prende i colpi dalla riserva del falcione e non li genera più Il falcione, fede, sappiamo benissimo che dipende un sacco dalle mod Perché è un'arma tutt'oggi a tutti gli effetti mediocre Non è un'arma forte, non fa danni, l'unica cosa che ci ha utile è ovviamente le sinergie con le modifiche dell'artefatto Fine E lo scudino, lo scudino è sempre interessante avere un modo per restare fisso Però non è nulla di fenomenale il falcione, lo sappiamo benissimo Ha aumentato poi il danno in pve eccetto per boss e veicoli del 25% del falcione Quindi comunque ha aumentato i danni dei falcioni Ridotta il consumo dell'energia dello scudino del 30% Quindi possiamo dire che lo scudino che tirate fuori vi dura il 30% di più Aumentata la velocità del proiettile Per quello del titano, il falcione del titano i giocatori guadagneranno un sovrascudo da vuoto quando sono dentro la bolla E con l'elmo di Saint adesso si applicherà anche alla bolla creata dal falcione Per lo stregone invece aumentata la velocità e l'accelerazione dei proiettili curativi Per quello del cacciatore invece triplicato il danno delle detonazioni e aumentato il numero di ene di nemici che possono concatenare da 4 a 8 totali Insomma sono dei buoni cambiamenti per quanto riguarda i falcioni E questa è una delle poche notte positive del weekly Questa è un'altra delle poche cose positive Parlano di flinch Cos'è il flinch? Il flinch è il sussulto che ti arriva all'arma quando ti sparano Che siano essi nemici, dell'intelligenza artificiale, altri giocatori eccetera Verrà associato alla statistica di stabilità delle armi Praticamente adesso più avrete stabilità su un'arma più avete resistenza al flinch nemico La stabilità vi fornirà flinch Qui alcuni esempi Con 100% di stabilità voi potrete avere fino a un 25% di resistenza al flinch su automatici mitragliette e archi Se voi avete una mitraglietta con 100 di stabilità avete 25% di resistenza al flinch 20% per impulsi, ricognizione, sidearm e mitraglioni 15% su cannoni portatili e laser E 10% su fusioni, pompa, cecchini, lancia granate, lancia razzi, fusioni lineari Perché il flinch sarà anche relativo alla statistica di resilienza Da 0% di resistenza con 0% di statistica a un massimo di 10% se avete 100% di resilienza Vi ricordo che la resilienza come funziona? Voi di base avete su un PG 186 HP Voi avete 186 HP, mi pare che è 100 di scudo, 86 di vita, non mi ricordo La resilienza funziona che i primi valori scalano in 2 e 2 1 in resilienza vai a 188, 2 vai a 190 3 in resilienza 192, 4 in resilienza vai a 194 E da 4 in resilienza fino a 10 scalano anziché di 2 HP di 1 HP 194 fai poi 195, 96, 7, 8, 9 fino a un massimo con 100 di resilienza di 200 HP Adesso builderà anche resistenza al flinch fino a 10% Ma che succede? La cosa figa è che la resistenza al flinch, i valori sono moltiplicabili Infatti qua fa degli esempi che avere un impulsi della Suros con 100 di stabilità Quindi con sinergia Suros attiva, questo è proprio il caso massimo che potete avere Il caso massimo di resistenza al flinch Suros, impulsi, 100 stabilità, sinergia Suros, 10 di resilienza, 100 praticamente Perk, nessuna distrazione e 2 modifiche di resistenza al flinch Mentre in una barricata del titano bassa Arriverai a un massimo, il massimo totale è 90% resistenza al flinch Pressoché nulla 100% resistenza, considerate che il 100% resistenza al flinch vuol dire che l'arma non subbalzi E che parlando terra-terra, chi ne beneficia secondo voi di più tra giocatori con mouse e tastiera E giocatori con il pad Però se voi immaginate che fino adesso quelli col pad avevano un aim assist più alto Proprio perché, il motivo per cui avevano un aim assist più alto è perché giustamente hanno una variabile di rinculo in più E gli rincula di più l'arma E gli flinciava anche di più Ok? Adesso che puoi buildare molta più resistenza al flinch Quelli col pad faranno solo headshot Secondo me Questa mia espressione però Tolto sto discorso un po' singolare Secondo me non è una cattiva cosa il fatto che puoi buildare resistenza al flinch Perché se io voglio Se io voglio che la mia arma sia immobile Mi metto lì Mi studio i perk Me lo faccio 100 di stabilità Che non è male perché fino adesso In particolare io Come giocatore mouse e tastiera Non ho mai optato per la stabilità in nessuna arma Cioè io non ho mai detto Ah sì questa canna Questo proiettile è meglio Perché c'ha più stabilità Rispetto a quest'altro Io ho sempre puntato ad avere solamente maneggevolezza egittata Perché la stabilità Se sono bravo io Me la gestisco io Mi gestisco io il rinculo dell'arma Quindi non è bad come cosa Però Pensare A attuare una roba del genere E non a diminuire Un'antichia Leggermente Lame assist Solo da pad Mi sembra un po' strano Mia opinione Perché ripeto Lame assist da pad È più alto Proprio perché loro Gli rincula di più l'arma E subiscono più flinch Sai che c'è Diventiamo ancora più bastardi Esatto Quindi quello che dico Ale È che comunque adesso ci penserai A dare stabilità Ci penserai a mettere una determinata mod Una determinata Un totto di resilienza Ci penserai Poi Signori Adesso Iniziano Adesso preparate Iniziano le bestemmie Perché dopo due cose positive Dopo un bel rework Ai falcioni E dopo la possibilità Di staccare Resistenza al flinch Parliamo di Efficacia in aria Airbone gunplay Adesso parliamo di Efficacia in aria Preparatevi Abbiamo aggiunto Una nuova statistica Le armi Oltre ad averci Impatto Gittata Stabilità Maneggevolezza Pricione di ricarica Eccetera Una nuova statistica sarà Ma efficacia in aria Che sta a indicare Quanto l'arma Sarà precisa In aria E quanto Aim assist Bullet magnetism Solito Avremo in aria Prende l'arma Se tu l'arma È precisissima Ma poi c'è Efficacia in aria Zero In aria Sarai molto meno preciso Che dice Prende se la statistica Sarà tra 0 a 30 Il PG avrà Una leggera penalità All'accuracy In aria E meno in massis Tra 31 e 50 Avrà più o meno Più o meno La stessa La stessa Accuracy Che hanno adesso Le armi Con Icaro Equipaggiato Ok Ma con Molto meno In massis L'accuracy Cos'è Praticamente qua Parla di Bloom Nel senso che Se io sto Ammirando Preciso C'è la probabilità Che magari Non lo prendo Comunque Pure se Sto a mirare Preciso A 100% C'è la statistica Tra 51 e 70 Una maggiore Accuracy In aria Rispetto alle armi Di adesso Con Icaro Ma con Un po' Ovviamente Con meno Eventi randomici Quindi con Meno Bloom Ma comunque Con meno in massis Rispetto ad adesso Quanti fanno il paragono Con quello di Seguitemi bene Perché ripeto Sono cose Un po' complicate Non è facile Per dirvi Loro fanno Adesso Adesso Se tu metti Un'arma con Icaro Le armi con Icaro Di adesso Avranno Sono la traduzione Tra 31 e 50 Di efficacia in aria Avere un'arma con Icaro Adesso Tra 31 e 50 Quando cambierà Che dopo leggeremo Tutti i valori Per ogni arma Se la tua Se Post patch La tua arma Il tuo cannone portale Facciamo esempio Che tu hai un sorte fatale Con Icaro Se il tuo sorte fatale Con Icaro Post patch Non riesce a fargli raggiungere I 50 Di efficacia in aria La tua arma Sarà meno precisa Rispetto a prima L'arma identica Uguale Identica a prima Ma sarà meno precisa Ok Che succede Che volendo L'arma può diventare Anche più precisa Di come adesso Parlamosi chiaro Perché se tu arrivi a 100 Come leggete Non avrai Penalità in aria Se tu riesci ad arrivare A 100 di efficacia in aria La tua arma In volo Sarà precisa Come da terra Il problema È arrivarci a 100 Ecco Per farvi un esempio Avete nominato Gli stregoni Solari Gli stregoni solari Consumare la granata Fornisce un più 70 Però il tutto Sta nel capire Come le nostre armi Verranno trasformate Post patch Allora Per le armi primarie Invece sarà Una penalità Minore Se avete la statistica A zero Invece avrete Zero penalità Per le armi primarie La penalità sarà Pressoché nulla Se avete Tra 60 e 100 Di statistica Quindi che significa Che l'efficacia in aria Ovviamente Si traduce Molto più grave È molto più difficile Essere precisi in aria Con armi speciali Sparare Avete provato tutti A sparare con fucile A fusione Mentre state saltando Non hittate un colpo Se state in aria Stessa cosa Con un cecchino Non è semplice Hittare mentre si salta No? Lo sapete benissimo Anche voi E per tutte le armi speciali Icaro sparisce? No non sparisce Icaro No no Icaro ci sarà ancora Icaro lo dirà dopo Ma fornirà più 15 Di efficacia in aria Che succede? I fucili a pompa I fucili a pompa pellet Se hanno 0 di efficacia in aria Gli aumenta il cono Del 25% Lo spread del colpo Questo non è il cono Del massimo Questo è lo spread del colpo Aumenta del 25% Con la statistica 0 E rimane invariato Se ha la statistica a 100 Per avere il pompa Come adesso Come adesso in aria Dovete avere 100 di efficacia in aria Questo ovviamente È un nerf A tutti i fucili a pompa Che in aria Itterranno di meno In pratica Tutti i fucili a pompa A pallettoni Adesso in aria Sono Meno precisi Ittano di meno Tra qui lo meta Non è finito E così I senza mani Sono felici In aria Come dicevo La mod Icaro Fornisce più 15 Mettere Icaro Ti darà più 15 Di efficacia in aria Quindi effettivamente È capace La cosa bella È che adesso L'unica cosa bella È che adesso Potremmo vedere Quanto un'arma È efficace in aria Perché sarà una statistica Quindi l'avremo qui Insieme al resto Le armi Varieranno Di base Potremmo avere Un massimo Di efficacia in aria Di base Tra 0 a 10 O tra 0 a 30 In base all'archetipo Adesso vi dice Per ogni arma Quale sarà Il massimo E il minimo Di efficacia in aria Da cui potranno partire E sapete Quale arma Ha il minimo Fucili Da cecchino E fucili a pompa In pratica Non potrai mai Raggiungere 100 di efficacia in aria Col pompa Ah e poi vabbè Qua fa Vabbè Comunque ve li dico Le pistoline Fino al massimo di 30 Automatici fino a 25 Impulsi fino a massimo 25 Ricognizioni fino a massimo 20 Mitragliette fino a massimo 30 Archi fino a massimo 20 Cecchini e pompa Fino a massimo 5 Di efficacia in aria Fucili a fusione Fino a massimo 10 Ci sta Lancia granate fino a massimo 5 Laser fino a massimo 15 Lancia razzi fino a massimo 10 Mitraglioni fino a massimo 20 Lineare fino a massimo di 15 Altri tipi di lancia granate Perché variano Come te la hai 20 Falcioni massimo 15 E qua fa alcuni esempi Di alcune esotiche Per esempio Tipo L'affari sporchi partirà con 27 Voglio dire Chi non vede l'ora Di andare a sparare in aria Con l'affari sporchi Senza pietà 15 Leone rugente 12 Il sunshot 27 Che comunque Il sunshot 27 Che vuol dire Che il sunshot È in automatico Il cannone portatile Con l'efficacia in aria Di base più alta Il giuramento Dei bruciatori Eeeh 35 Top Games Sarà felice Eeeh Rederati 30 L'Hackleberry 33 Non male L'asso di picche 14 L'accompagnatore avrà 1 Però voglio dire Se spari in aria Con l'accompagnatore Sei un rincoglionito Perché con l'accompagnatore Spari da per terra Non avete mai sparato in aria Con l'accompagnatore Se l'avete fatto Siete malati di mente Ovviamente Se io devo sparare Con pompa slug in aria Mi metto Un pompa leggendario Con Icaro Un blasfemo Un primo e ultimo Sta roba qua Ovviamente Questo è un esempio Di alcune armi Il pompa Il ragnildi avrà 3 Il martello igno 23 Ah mazza no Come si chiama Langjuri La ricognizione dell'orbita morta Mi viene in mente Giustizia negata Bravi Giustizia negata 22 Il fusione Del raid 9 In poche parole Se non state attenti Se non buildate bene le armi Se non ce le avete rollate bene La maggior parte Delle vostre narvi In aria Sarà meno precisa Di quanto adesso L'unico modo Per aumentarla È o buildarsela Bene Rollarla bene E metterci E poi in combinazione Con alcune esotiche Perché come vedremo Alcune esotiche Forniscono dei bonus Ad esempio Un rileva nemici Più 20 A tutte le armi Le maniche elettro truccate Forniscono più 50 Di efficacia in aria Le sidearm Il giuramento Le braccia del cacciatore De esotiche Per tendere gli archi Danno più 40 Agli archi I calp Levano 50 Di efficacia In aria A tutte Le armi E non ne fate i calp Vuol dire Saltare coi calp In aria Ti rende tutte le armi Meno precise Nessun piano di riserva L'esotica del Del titano Più 30 Ai fucili a pompa Poi Mezzo da guerra Action Più 30 Tutti automatici E mitraglioni Cuore Quello Quello del titano De solare Che quando è la supercarica Solare Più 20 A tutto Leonirampanti Più 50 Ma solo in hipfire Senza mirare Pacificatori Più 40 A tutte le mitragliette Chieneri peregrini Più 20 A tutto Occhio dell'ortremondo Più 15 A tutto Verso dell'astrocita Più 30 A tutto Aspetto fidiano Più 10 A tutto Impugnature necrodiche Più 30 Alle armi Weapons of sorrow Alle armi Che so Del trono mondo Alida sacra alba Più 50 A tutto Gambale dell'assemblatore Più 30 Allumina Che strano che i calpi Siano l'unico con un debuff Eh veri Io penso che la community Soprattutto su console Ha richiesto un nerf ai calpi Da tipo una vita Cioè io Conosco una marea di persone Che si lamentavano dei calpi I calpi I calpi Quando secondo me Era una delle esotiche Di movimento più Normali Più Cioè Letteralmente ti boosta i salti Velocità di movimento in più Te la dà se la riesci a sfruttare bene Se tu ti sai muovere Ok Va a saltare in alto E non lo sai Se non lo sai fare Molte volte è solamente un malus Qua ci sono delle cose Che fanno molto ridere Questi sono dei grafici Dei grafici Di utilizzo Delle esotiche Sono in ordine Sono in ordine Qui alfabetico Le vedete tutti alfabetico E Questo è per quanto riguarda il cacciatore La Bungie Perché l'ha nerfati i calpi Perché ovviamente Secondo loro Erano Essendo che Sono utilizzati Dal 30% Della community Erano troppo forti La Bungie Non è in grado Di scindere Percentuali di utilizzo Da effettiva forza Di un'esotica Non capisco perché Manco io ho mai usato i calpi Gibi Soprattutto il cacciatore A livello di esotica Il cacciatore è uno di quelli più Poveri Tra virgolette Ma insomma Le armature esotiche Del cacciatore Sono veramente poche Quelle efficaci in pvp È ovvio Che se la gente Gioca in crogiolo Scegli tra quelle 3-4 Convenite con me Che nel fare un'esotica Solamente Perché è la più utilizzata È stupido Cioè Dovrebbero saper scindere Quest'esotica utilizzata Perché È buona Perché non usano le altre esotiche Magari perché le altre esotiche Sono inferiori A questa E non è quella Che è superiore alle altre Giustamente a loro Che gli conviene Nel fare una sola esotica O baffarne tipo Altre 6 Quale richiede Meno lavoro O Meno voglia di fare Un cazzo Bravo Jack Baffare le altre Richiede troppo lavoro Ma non è finita qui Signori Il bello Deve ancora venire Siamo a metà del tuo hub L'aspetto fidiano Guardatelo 30% Pure l'aspetto fidiano Però L'aspetto fidiano Non è stato nerfato In chat Se c'è qualcuno Che tra virgolette È contro i calp Ed è favorevole A un nerf Così pesante Perché Stiamo parlando Di meno 50 Di efficacia in aria Un nerf così pesante Se c'è qualcuno D'accordo Mi spieghi Le sue motivazioni È vero È strautilizzata È vero Su console La gente Non è in grado Di stare Appresso a un cacciatore Che gli salta Istantaneamente Sopra la capoccia È vero Ma Meno 50 Avrei capito Un meno 10 Dai Vuoi nerfarli Meno 10 Di efficacia in aria Vuol dire che Col pompa È più facile smirare Rompevano il cazzo Ma non così tanto Meno 50 È esagerato Esattamente Questa è una cosa buona Un'altra delle poche cose Positive Vengono ridotte Le percentuali Di buff Riducono Da 20 a 15% Dove sta La pozza Fuoco energico E sovraccarico Di inerzia Da 20 a 15% Che succede? Che ovviamente Col 15% Di danni Non sarà più possibile Body shottare Con i cecchini A bassa cadenza Non sarà più possibile Body shottare Con l'arbalestra Con One shottare Con Le monarch Body shottare Con lorenz Né in pozza Né con sovraccarico Di inerzia Né con fuoco energico Disabilitati I saccheggiatori In pvp Disabilitati I saccheggiatori In pvp Giusto Ci sta Ma si regà Ma ci sta Ci sta Si si Disabilitati I saccheggiatori In pvp Che significa? Ah che bello Finalmente adesso La gente Inizierà ad utilizzare Le primarie Anziché girare solo Col pompa Il fusione Per tutta la mappa Infatti la gente Adesso non girerà più Per la mappa State tranquilli State tranquilli La cosa positiva È che avrò due slot In più da mettere Non dovrò più sprecare Quattro slot Per un saccheggiatore Ma potrò mettere Non lo so Un autoricarico Qualcosa Signori Io sarei d'accordo Con voi Allora parliamo Io sarei d'accordissimo Con voi Si gioca meno di speciali Cioè Io gioco con tutto A me non me ne frega Io gioco con le primarie Gioco con le secondarie Gioco con tutto È vero Ci memo Ci scherzo Sui fucile a fusione Ma nemmeno li uso così tanto Se andate a vedere Il mio crucible report Io però Conosco i miei polli E conosco il crogiolo Una scelta del genere La gente che dice La gente Che si lamenta Che va a giro a dire Eh Guardateli Giocano solo col pompa e fusione Non sono buone con le primarie Appena si accorgeranno Che nemmeno loro Sono in grado con le primarie Perché anche loro Utilizzavano Le speciali Come tutti quanti Che dice Oh cazzo Non riesco più a fare Le stesse kill di prima Aspetta che tiro fuori Questo bellissimo impulso E questo bellissimo Ricognizione E starò fermo A fondo mappa Questo nerf È indubbiamente Un nerf giusto Fatto al momento sbagliato In condizioni sbagliate Questo non è un nerf Che andava fatto adesso Non in mezzo a tutta sta roba Secondo me Perché Come andremo a leggere In futuro Ci sono altre cose Che dobbiamo vedere Fermi Ovviamente Questa l'avevano già detto Non sarà Non ci sarà più L'accumulo di munizioni speciali Durante la vita Di una persona Che significa Che se io muoio E avevo dieci colpi verdi Se muoio Comunque La gente ne raccoglierà Sempre uno da per terra Non dieci Che ne avevo raccolti io E questo va bene Va bene Sarebbe bello Sarebbe bello Giocare Di più Con le primarie Il problema Qual è Quali primarie usi L'ottanta per cento Delle mappe in crogiolo Sono apertissime Cioè Giocare con cannone portatile Su mappe come Frammento Come centro città Come Vostok So Le giochi A tuo rischio E pericolo Non puoi lamentarti Di matchare Impulsi E ricognizione Su mappe aperte Perché Giustamente Sendo mappe aperte Uno gioca Con quello che è meglio Anche in base alla mappa O no Il problema è che La maggior parte Delle mappe sono aperte Bilanciale Dovrebbe esserci Un ugual numero Di mappe piccole Mappe medie E mappe grandi Ma non è così Slug e Pellershot Sono troppo Frequenti E popolari in pvp Dovuti Ai recenti cambiamenti Così abbiamo pensato Di incoraggiare I giocatori A usare diverse Armi speciali Per questo stiamo mettendo Un occhio di riguardo In questo cambiamento E dato che abbiamo Toccato i pompa Molteplici volte E l'abbiamo aggiustati Quando era necessario Con questo cambiamento Ci aspettiamo Che i pompa Avranno Una ridotta Distanza Per one shotare Ma comunque Un'ottima soluzione Nelle parti A corta distanza Ridurremo La distanza Di one shot Di pompa Di 0,5 metri E ridurremo L'inizio E la fine Del damage fall off Di un metro E ridurremo Le massist E il magnetismo Di alti 2 metri Dopo averne il fatto Di pompa Tre volte La quarta La mazzata Finale Meno precisi In aria Subiscono più flinch Hanno il cono Hanno il cono Più largo in aria Ancora 5 50 cm In meno di range Per one shotare Inoltre inizia prima La riduzione Di danni Di un metro Il damage fall off Avranno meno Massist Meno magnetismo Il problema Del crogiolo Sono i pompa Il problema Del crogiolo Sono i pompa Li potete odiare Quanto volete Perché anche a me Sta sul cazzo Il tizio Che gira correndo Se ne frega di tutto Col pompa Per carità Ma sono letteralmente L'unica Una delle poche armi Che ti fa girare Per la mappa Che non ti fa rimanere Fermo e rincoglionito Come un botta a pedali A fondo mappa Preferite venire ucciso Da un tizio col pompa O da uno che è fermo Col DMT Ovviamente Dite quando Quello vi pare Sono di parte Perché uso i fucili a pompa Però Io uso i fucili a pompa Proprio perché mi diverto A girare per la mappa Mi piacesse stare fermo Non giocherei con i fucili a pompa Parliamoci chiaro Fucili a fusione Invece È Gitarre in meno Gitarre in meno Gitarre in meno Poca Metro M3 Sti cazzi Ok vabbè È leggermente più rinculo Leggermente baffati I telai a impatto elevato Il tempo di carica Passerà da un secondo A 0,960 Quindi 40 centesimi Di carica in meno È aumentato il danno Il danno Per raffica Di 10 Quindi tipo I telai a impatto elevato Sparano mi pare Un pallettone Da 5 Quindi Ogni pallettone Singolo Leva 2 in più I telai di precisione Invece Avranno un tempo di carica Leggermente aumentato Di 40 centesimi Anziché 0,740 Di base 0,780 I telai rapidi Da 0,460 A 0,5 E I telai rapidi Ridotto Il danno Per raffica Di 20 Dovrei rileggere Il vecchio weekly Ma mi sembra Che i telai rapidi Sparavano una raffica O da 7 O da 9 Vuol dire che Ogni pallettone Leva 2 de meno Circa Sì alla fine Alla fine Non li hanno nerfati Alla fine Non li hanno nerfati Fusione Sì gli hanno tolto Un po' di rest Rinculano un po' di più Alcuni caricano Un po' più lentamente Fine Invece Divinity I laser Non sono molto popolari Ha aumentato Il danno Contro i combattenti I gialloni Del 20% Ha aumentato Invece Le munizioni Raccolte da terra Da 18 a 30 A pacchetto Primarie Armi primarie Automatici Ha aumentato Il damage fall off La distanza damage fall off Di 0,75 metri Dopo che hanno nerfato I pompa Dopo che hanno tolto I saccheggiatori E tutto quanto Signori pronti Fucili a impulsi Ha aumentato il range Con statistica A 0 da 15 A 16 metri Ha aumentato invece Il range Con statistica Di gittata A 100 Da 22 A 24 metri In pratica Gli impulsi Avranno più gittata Inoltre La distanza Di damage fall off Rimarrà a 40 metri A discapito Cioè E non sarà influenzata Dalla gittata Prendete Gli impulsi Perdono danno Qualsiasi impulsi Dopo i 40 metri Ha aumentato poi Il danno Dei telai di precisione Che sono i meno utilizzati Leggeri Lightweight Ah no è vero i leggeri Sorry L'ho sbagliato Ma ho letto In pratica Hanno buffato gli impulsi Armi pesanti Ha aumentato il danno In PVE Dei mitraglioni Del 40% Un boato E del 20% Contro i boss Esotiche Tutte le esotiche Uscite Prima di Forsygan Avranno adesso Il contatore Delle kill Attivo Let's go Leone ruggente Ha aumentato il danno Del 5% E ha aumentato Il raggio Di esplosione Di 0.4 metri Occhi del domani Il lanciarazzi Esotico Finalmente potrebbe diventare Utile Perché ha aumentato Il danno Contro i boss E campioni Del 30% Ha aumentato Il danno Del 50% Tra impatto E esplosione Quindi Il soffio Le vetano Fa più danni Wow A cleberry Ha aumentato Vabbè lo zoom L'amoletto L'oxerofagia Passa da 100 RPM A 120 RPM Però ha ridotto Il danno Per matchare Ovviamente Il giusto Ci farà meno danno Ma spara più veloce Le monarch È troppo Oppressivo Soprattutto In pvp Quindi che succede Ridotto Ridotto Il danno D'avvenenamento Di le monarch Contro i giocatori Del 25% Lawrence Lawrence driver Fattore Lawrence Ridotto Il danno Al body Contro i giocatori Del 20% In modo tale Che non potrà più One shotare Al body In pozza O con cariche Di luce Giuramento Dei bruciatori Gli fanno Delle robe Non ce ne frega un cazzo Faride Ultima parola Ridotta La penalità Di rinculo Da 33 A 22% L'ultima parola Con mouse e tastiera Avrà Leggermente Meno rinculo Perché il problema È il rinculo Dell'ultima parola Con mouse e tastiera Non è il fatto Che non entra Un colpo Manca a pagaloro Però va bene Arbalestra Ridotto il danno Contro i campioni Del 25% L'hanno appena Abbaffata La rinerfano Lancia gravitazionale Cambiato Il catalizzatore Da mano celata A arma Vorpal E Turnabout Che è il recupero Mi pare Grand Overture Il mitraglione nuovo Esotico Sarà più facile Passare la modalità A missili Cuore gelido Fare danno Continuo Crea delle tracce Ioniche Le stesse Che ha lo stregone Ramo centrale Dell'onda Dell'onda del caos Che ti recuperano L'energia Dell'abilità Aumentato il tempo Prima che inizi A aumentare il danno Devi fare danno Per un secondo di fila Prima che inizi Ad aumentare Lenti di prometeo Adesso Fare danno continuo Applica una bruciatura Ai nemici Corretto Il tracciamento Dei proietti Dello steostriga Perché a quanto pare A volte curvavano Di 90 gradi E il signore dei lupi Ridotto Lo start E la fine Del damage fall off A del 25% Cagnone se raccoglie Una sfera Supprime pure Serio? And now suppress targets While grunt is mode Uuuuh È vero Raccogliere inoltre Una sfera Supprime nemici Se si dice Che il danno fall off È aumentato Vuol dire I proiettili perdono prima Danno O dopo No C'è scritto Ridotto Ridotto L'inizio È la fine Del damage fall off Del 25% Allora Come Ve lo rifaccio vedere Un'altra volta La mia arma Inizia a perdere Danni Inizia a perdere Danni Se Se qui Che ne so Il mio cannone portatile Le leva 71 Quando inizia il damage fall off Qua Le verrà Che ne so 68 Qua le verrà 50 in testa Qua le verrà Che ne so 30 Ok? Fino a che Raggiunta la fine Del damage fall off Le verrà Zero Oltre questa cosa Il colpo non entra proprio Ok? Questo è il damage fall off Se il nerf E pop Il crogiolo diventa più bello Se Post Questo nerf Qualsiasi Persona Io legga Si lamenta Che viene ucciso Da un fucile A pompa Io me lo mangio Se io leggo Su facebook Su instagram Su un commento Su youtube Su twitter O in chat da me In qualsiasi situazione Se Uh Fatto questo nerf Vi lamentate Di essere stati uccisi Da pompa Significa che voi Non siete in grado Di stare per la mappa E che siete Dei rincoglioniti Incapace di Vedere cosa vi circonda Perché mi avete rotti I coglioni Perché per le vostre Lamentele Stanno devastando Un crogiolo Quando i problemi Sono altri Fanno delle cose buone Ne ne fanno altre Non c'ha senso Dello standardo Se ne andranno Il finalità occlusa Non sarà più droppabile Dallo standardo L'impatto finito Non sarà più droppabile Dallo standardo Da cala la notte Verrà tolto Il commediante Il palindromo Da cala la notte Dalle prove di Osirida Non sarà più possibile Droppare Messaggero Dalla season 18 Invece Toglieranno La sidearm Dello standardo E Il mitraglione Dello standardo Il Il presa 1 E il lanciarazzi Dalle cala E dalle prove di Osirida Toglieranno L'occhio di Sol E l'automatico Distruggo Nel dardo assionico Si gode Zitti che si gode Dardo assionico Da questo martedì Dal 26 aprile Da questo martedì Dardo assionico Quasi raddoppiato Il tempo di recupero Ottimo Godo Vaffanculo Voi e dardo assionico La barricata da vuoto Adesso È nerfata Avrà più Passerà da 82 secondi Di tempo di carica La barricata da vuoto Del titano Rispetto ai 53 Fatto per Mecciare Il recupero Della pozza Dello stregone Me ne frega un cazzo Va bene Buon nerf Baluardo offensivo Adesso fornirà Il 60% In meno Di energia Le granate In pvp Il frammento Di stasi Che ti riduce I danni Da 25 a 15% Quando sei vicino A un cristallo Da stasi Rimane invariato In pve Inoltre Le braccia Del cacciatore Da stasi Quando equipaggiate Se il cooldown Il cooldown Della granata Passa da 62 secondi A 152 secondi Più che raddoppiato Il cooldown Della granata Inoltre la riduzione Dei danni Dei player All'interno Della granata Sarà da 50% Al 20% Vabbè Non è che le hanno Demolite Di più Noi rilasciamo Un'esotica nuova La facciamo Fenomenale Per poi Distruggerla Completamente Non so in grado Di bilanciare Le cose O so forti O so scarsi Poi le cose Che so Invece bilanciate Come i calp Le nerf Ovviamente Poi avrete Il riassunto Su instagram Punta Scamadio Social Avete Il mio instagram Faccio il riassunto Un'esotica A me va bene Che renda difficile Usare le armi speciali Così la gente È più invogliata Usare le armi primarie Più spesso Il problema Sono le mappe Il buff Gli impulsi È necessario Se andando già in meta Al massimo Ci sarà un buff Sulle 4.50 Assolutamente vero Questo nerf Quando è prossimo Reset O prossimo season Questo nerf È per la prossima stagione Quello della prossima Quello della prossima settimana L'abbiamo letto Verso la fine Erano i cambiamenti Al darda sionico Alla barricata del titano Ai frammenti Da stasi All'esotica Da stasi Il cacciatore Questi qua È settimana prossima Fanno delle cose Cioè Fanno delle cose buone Nerfano gli one shot kills Mettono il flinch Bindabile Buildabile E poi mi fanno Tutta una tiriterra Sull'efficacia in aria Quando Boh Secondo me Non ce n'era bisogno Che poi Cioè L'avete visto pure voi Sono delle cose Abbastanza complesse Adesso Ogni arma Dovrei starla A buildare Precisamente Anche con la stabilità Con la gittata E con l'efficacia in aria Dovrei valutare Ancora più Più statistiche Fanno il gioco Più complesso Per migliorarlo Ai casualoni Non comprendo Allora La decisione in salto È un discorso strano Frank Perché non è Propriamente nerfata Dipende Dalla tua arma Quanta efficacia in aria Loro hanno detto Che per avere Gli stessi valori Di prima Ma con leggermente Meno in massis Le vostre armi Dovrebbero avere 50 di efficacia in aria Il problema È che buildarla Non è facile Io vedo bene nerf Perché salta Troppi grilli Ci stanno in pvp Vabbè Dario Tu non capisci In cazzo del grogiolo Quello L'avevamo già saputo Troppi grilli Va bene così Vabbè Dario Mamma mia Vedi Poi dici perché Parlare di grogiolo È difficile Perché Parli con i 0,50 Cioè Eh il problema Erano i calp Dario Hai ragione Erano proprio i calp Opinioni diverse Eh vi rispetto Io rispetto Per chi dice cose sensate Non perché dice cose deliranti Fio mio Mi dispiace Non è una cosa brutta Non capisci un cazzo di grogiolo Ma Un player che c'ha 3000 ore in grogiolo Rispetto a Gente come voi Particolarmente Che ce l'avete Meno di 500 Potrò sapere più cose Io o no Scusatemi O è arrogante Da parte mia Pensarlo Gioco anch'io Molto pvp Voglio i dati Non voglio molto Molto non è una statistica Fio mio Nel fare ulteriormente i pompa Che siano in pvp In aria Di base La gittata Secondo me è stupido Perché vai a favorire Un tipo di gioco Completamente Statico Quale Impulsi E ricognizione Se pensi poi al fatto Che la maggior parte Delle mappe Sono aperte Inutile lamentarsi Prima che esca una cosa Vedi qual è la differenza Dario Io ho giocato Talmente tanto grogiolo E ho letto Talmente tanti Tuab E E patch notes Che riesco A prevedere leggermente L'andamento Del crogiolo Da delle righe Non mi serve Per forza provarlo Per sapere Come sarà l'andazzo Cioè Non è che stiamo qui A buttare Cose a caso Ma si dai Facciamo questi cambiamenti Poi vediamo come va Dato che poi Ogni volta Ci mettono mesi Per cambiarli Prima non è così Cioè Non è che stiamo A giocare Sul server nostro Di minecraft Ma si dai Mettiamo questa mod Di minecraft Vediamo come va Poi in caso La leviamo Stiamo sul server De minecraft Cristo dio Stiamo a giocare A Destiny 2 Infusione Sarà una delle poche armi Che è nelfata Talmente poco In modo irrilevante Che prossima season Verrà usata lo stesso Dario parla Per ipotesi La sua vita Ma si ma domani Vediamo come sarà Il tempo Non guardo le previsioni Domani Apro la finestra Esco di casa E se mi fracico Vuol dire che piove E allora devo Prendere l'ombrello Si si Io ti giuro Rea Ma mia se Top Games Fa un video In cui nomina Il tuo hub E dice Oh regà Hanno potenziato Il giuramento Dei bruciatori Ebbene è bello Io non so voi Che leggete Ma io Stando dall'altro lato Facendo contenuti Su Destiny Io leggo Tutte le fasce Ci sta gente Che mi arriva Mi dice Però non è possibile Che al cacciatore Non danno mai Delle abilità forti Solamente Titane e stregone Possono one shot Con questa abilità E cacciatore Non è Può fare E poi mi arriva Altra gente Che mi scrive Però non è possibile Che al cacciatore Danno sempre Solo le abilità forti Oh mettetevi d'accordo C'è gente con la Renée Lawrence Che si lamenta Del cacciatore Con la Stasi Sì capito La gente è tutta così La gente Guarda solo gli altri La gente È un titano E usa delle armi Guarda le altre La gente È un titano È uno stregone Con lo sniper Si lamenta Del cacciatore Con il pompa E poi magari Non guarda Che comunque Lui con lo sniper Con lo stregone E la Dumbled È il dio dei cieli La gente Guarda solo Gli altri Non guarda Quello che usa Va bene signori Ci becchiamo domani Forse domani Comunque in caso Su Youtube Vi carico I top spezzoni Di questo tuab Sicuramente Va bene Noi adesso avremo Un crogiolo Secondo me Del cazzo Ma il primo Il primo Che sento Lamentarsi Che la gente È ferma A camperare Con le primarie A fondo mappe Io me lo inculo Io me lo inculo Io me lo inculo Piazzo una videocamera Ci metto la sigla Di Pornhub Prima E me lo crivello Di analmente Va bene Lo crivello Nessun problema Nessun problema Io voglio Io mi adeguo Io non ho problemi Al massimo Gioca ad altro Mi adeguo Mi metto a giocare Con il Con le impulsi Me ne frega un cazzo L'avete voluto voi Io gioco come volete voi Nessun problema Nessun problema